stateci bene a sentire ragazzi mi raccomando se arriveranno 8000 mi piace su questo video entro la mezzanotte fattibilissimo perché è un big match di quelli pazzeschi Atalanta-Napoli ragazzi nella prossima giornata di Serie A ce ne stanno due di big match esatto esatto in previsione quindi ragazzi mi raccomando Lazio-Milan e Napoli-Roc ne facciamo uno su FIFA e uno su PES ma solo se arriveranno 8000 mi piace su questo video entro la mezzanotte detto questo l'Atalanta tocca a me a te tocca a Napoli perché nell'ultimo gameplay ovviamente l'Atalanta l'hai presa te però eravamo su FIFA queste dovrebbero essere le probabili formazioni potrebbero cambiare a qualsiasi momento tutto quello che vi pare ma noi ce la giochiamo così se sei pronto andiamo? chissà guarda tanto ne può cambiare ho solo invertito Anzi Elisky e Fabian Ruiz e allora ti è dai perché mi rubi le parole perché mi rubi le parole mi va di dirlo questo non vedevo l'ora di tornare su PES perché dopo due gameplay di fila a FIFA ne abbiamo fatto due consecutivi su FIFA? non l'abbiamo mai fatto in tutto l'anno ci può anche stare adesso torniamo su PES ma lo ripetiamo 8000 mi piace entra la mezzanotte ragazzi prossima settimana tra virgolette oddio arriva il doppio gameplay uno su PES e uno su FIFA due grandi big match ti è sono tutti pronti guarda la lotta a chi è più nano vince in signe mamma mia davvero va bene ok non si sa chi sta messo peggio non era per insultare ognuno è alto quanto c***o che pari eh anche perché non è che ci scegliamo all'altezza esatto mamma mia no questo non si è fermato ma ma me la parava era centrale vuoi fa melina tutta la partita? e zitto che devo gestir dai che la prendi mamma mia mamma ma no ma lasciala al portiere da lì ma che sta? oh no papuuu la p***a ma la metà meno male meno male che sei uno scandalo ecco come ho detto meno male che sei uno scandalo guarda dalla me ti spiego come hai fatto a sbagliare lo bifferò guarda 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 alla che c***o guarda che mi ha fatto sei maniato regà mamma mia mamma baila come eh baila como è andata male Giuseppolo eccolo eccolo chi è questo lo riconosco è De Ronde è Martin De Ronde Coulibaly a Funghetti 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 e l'Atalanta vince eh guarda cosa ti ricercontare regà ultimi duke and play ok passare a vantaggio a Napoli perfetto bene con la controparte De Ronde chi è? eh è andata a Funghikoso chi è a quattro? mamma mia ragazzi miei Dem chi è? è andato proprio de merda è il caso di dirlo vai mamma mia non la voglia di gridare a fondo siamo delle teste di c***o va bene di capoccia la nonna la nonna e le zie no io vuoi sapere no no e dai no io questi passaggi non li posso vedere ma dai ma dai ma hai visto che passaggio che ha fatto la tanta ma guarda questa guarda che ha fatto te sei sbagliato tu no che mi sono sbagliato era un appoggio facile ragazzi che pezzo me sono sbagliato era un appoggio facile ragazzi che pezzo ma vai i tacchetti tu fai i tacchetti che io la butto dentro fatta la f***a vai tu a zero ma voglio proprio vedere che tonne ma annaccia quel porco eccolo qua voglio ritornare a fare il cinema siete delle m***e non c'ho spazio lo so sono bravo io a chiudere tutto eh si sono bravo a chiudere tutto c'è prova da fuori mamma mia no no volevo far il c***o no 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 vedi la f***a su a uno su a uno la presa la presa non ho dovuto ordinare prenderla dai e 2 a uno 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 fanno lo sborone rega no volevo girare intorno e rigirare intorno guarda la te d'acqua la para e gli risalta la 2 a uno dai come al solito partite tranquille dai forza forza faccio il 3 perché tanto sono più forte ecco con la voglia di gritare a fondo ahhh agghiacciante quello che dicono ma come fai se farlo per te è assurdo è assurdo e oggi lo posso dire la tranta sta come far godere un uomo ma perché sbagliano così tanto ma perché oh mo cominciamo prova c'è da fuori maledetto sacca l'arca via è un nano no tira tira maledetto prova con il giro di scappare a lui ok le salvo ma perché i mesi scansano perché i mesi scansano mamma la fregna di quella di tu madre quella baldracca sferica c'è prova ma come fai a stare in cattedra te sto più appallonati fine primo tempo ragazzi guarda là ma ti rompe il c***o ti ho regalato un gol 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 no 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 2 a 2 subito buono niente buono nasce rotto da un errore il napoli ma sopra avanza 1 2 ripetere la nostra che passaggetto filtrate per fabio ruizzo che lo sbaglio sono la voglia di gritare a fondo guardatevi una cosa sono io e il vostro camani ma vaffanculo vado fuori manda il tiro sei una vergogna sei una vergogna sei non ti fermare vai tutto dentro vai è un nano qualsiasi eh mo là che me invento dai e sta da su dai non era niente ma come non era niente di che fallo ma da ritorno da sui piedi da ritorno eh fallo ma che c'è lo spazzito no che c'è lo spazzito ma c'è il culo c'è il culo dobbiamo rivedere l'azione però buonissimo lo scambio guarda la la lo scattino lo vedi che mi si è fermato lo scattino di Lorenzo il segno è da uno se è da uno tre due dai con la voglia di gritare a fondo non sono le culone mannaggia la parà no la parà ma come glielo hai dato dove va dove va ma tu guarda la p***a all'ultimo se deve creare l'occasione e farà mamma mia no dai dai ma che c***o su ma vaffanio no la nonna ma dai ma che c***o su ma si è fatto così ma dai la nonna oh lo sapevo lo sapevo l'ho vista la come una relazione sto deficiente eh ragazzi ragazzi miei ragazzi miei cioè lo spettacolo è assicurato quando si gioca mamma mia guarda dai ho risultato troppo rivediamo ma non si può così guarda guarda come si è affermato a me con i balillà guarda guarda mamma mia ragazzi dormono dormono in piedi mamma mia ragazzi dormono in piedi dormono in piedi e fu così che finì 0 a 0 no te lo devo fare con calma no te lo devo fare no è 57 è l'ultima azione mia tanto per cominciare se magari si muove guarda no ma che c***o sono fatti no guarda guarda i miei completamente fermi mamma mia mamma mia ragazzi che partita mamma mia ragazzi la voglio rivedere di mortacci tua che c***o di partita guarda da sentisse male da sentisse male la voglio rivedere no devo andare a riscovare no a scopare a scopare come vede col barista con l'attacco regano regano rega guarda i miei completamente fermi non ci vedete da stagli immobili guarda ho preso la mira mamma mia dall'altra angolazione non la puoi vedere dall'altra angolazione no no equilibratissima ma tu immagina che se io la chiudevo all'ultimo vi avrei sonato questa cosa sui denti letteralmente 8.000 mi piace su questo video se non cacciano 8.000 mi piace è nata una aff***o cioè dai 8.000 mi piace entro la mezzanotte e facciamo per il prossimo turno di serie A il doppio pronostico gameplay Lazio-Miran Napoli-Roma uno su FIFA e uno su PES se no no se no non li facciamo entrambi scegliamo noi se fallo su PES rega se non arrivano 8.000 mi piace su sto video ci incazziamo ma neanche uno ve ne meritate le gameplay ne manco uno ci incazziamo detto questo mi piace commentate condividete iscrivetevi al canale attivate la campanella per non perdervi tutti i nostri nuovi contenuti in descrizione i link a tutti i nostri profili social ci vediamo alla prossima con un nuovo video ragazzi miei ciao bella sto fio di una mignotta sto fio di una mignotta sto fio di una mignotta ma chi